RILIENZIO Ricordate! Non lo facciamo per la violenza, ma per la vittoria che ne consegue! E' tutto, questa caccia sta durando decisamente troppo. E' tutto, questa caccia sta durando un po' di rinforzamento, ma anche il senso che si tratta di un po' di rinforzamento, ma anche il senso che si tratta di un po' di rinforzamento. Caccia sta durando un po' di rinforzamento, ma anche il senso che si tratta di un po' di rinforzamento. Caccia sta durando un po' di rinforzamento, ma anche il senso che si tratta di un po' di rinforzamento. Caccia sta durando un po' di rinforzamento, ma anche il senso che si tratta di un po' di rinforzamento. Caccia sta durando un po' di rinforzamento, ma anche il senso che si tratta di un po' di rinforzamento. E' tutto pronto.